Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video post estate, che è un po' di tempo che non pubblico niente e andiamo subito a toccare l'argomento importante per questa mia presentazione in questo nuovo video per iniziare bene l'anno della stagione 2023-2024. Torniamo a parlare di alimentazione, parliamo di quello che potrebbe essere utile fare post estate specialmente post bagordi perché uno poi quando va in vacanza tende sempre un po' a rilassarsi perciò a godersi la giornata, il mare, l'aperitivo piuttosto che il gelato insomma è una serie di cose che poi compromettono il nostro stato di forma che nonostante l'allenamento comunque tende un pochino poi a rovinarsi, a guastarsi e poi si fa fatica a riprendere giustamente il ritmo che tanto si vorrebbe trovare in poco tempo il ritmo in termini di dieta, il ritmo in termini di ovviamente prestazioni in palestra e il ritmo in termini di riduzione della massa grassa. Questo è un video di introduzione a quello che poi sarà un altro video che farò dedicato proprio alla segmentazione del corpo perché avrò un po' dove il nostro in caso mio specifico dove il mio corpo tende un po' di più ad accumulare e cosa andrò a fare per ridurre quel tipo di rigonfiamento, passate nel termine ovviamente non è un gonfiore ma è proprio un accumulo di grassi perché giustamente poi eccedendo con le calorie e con un certo tipo di cibi e parliamo di carboidrati ovviamente il corpo ne risente negativamente. Per quello che riguarda per l'appunto di carboidrati vi faccio un po' il racconto della mia estate in quattro parole. Allora parliamo di gelati, parliamo di pane in maniera sconsiderata e spesso e volentieri parliamo di bombe e ciambelle la sera. Allora nonostante, dicevo prima, l'attività che non è mancata, comunque il corpo tende ad accumulare e perciò se ti trovi adesso in una condizione di eccesso di peso e ovviamente eccesso di grasso è fondamentale capire le ragioni che ti hanno portato a questo tipo di situazioni. Ragioni che possono essere di donatura ovviamente la parte alimentare e la parte ozio, quindi la componente faccio poco e di conseguenza tendo ad accumulare di più perché la mia attività fisica è diminuita nettamente rispetto alla precedenza. Mi rivolgo a te che sei più o meno mio o mia coetanea comunque di gelati parliamo 30-45 anni. Allora ti do una brutta notizia che per l'appunto tocca la pigrizia. Non è sufficiente allenarsi una volta ogni tanto ma diventa determinante dare costanza. Per costanza intendo non soltanto le classiche una o due volte ma andando avanti con l'età c'è da dire che è importante proprio intensificare il ritmo degli allenamenti e anche la quantità. Parliamo ovviamente di quantità in termini qualitativi perciò essere eseguiti se non sei stata da che parte cominciare e comunque rispettare un piano di lavoro che permetta al nostro corpo realmente di ottenere benefici. Molto spesso sento persone che mi dicono ma sai io mi alleno tanto faccio qua faccio là questa attività non è così elevata come loro magari si sono convinti forse e di conseguenza tutti i riscontri che non si hanno non sono altro che la realtà nel senso che se tu fai attività in maniera limitata limitante il tuo corpo ne beneficia in parte e poi ovviamente c'è da dire e da mettere in conto tutto quello che può essere un eccesso che ti costerà estremamente di più rispetto a quanto tu avevi preventivato perché il nostro corpo per quanto si faccia fatica a comprenderlo è una macchina che richiede costantemente movimento non una volta ogni tanto non una volta a settimana o due ma lo richiede costantemente perciò se fai un tipo di vita sedentaria sappi che dovrai dai 30 35 in poi intensificare ad un attimo da zero ad un'attività che comprenda almeno le tre volte settimanali. Allora spesso si parla di due ore a settimana, tre ore a settimana allora il discorso delle ore viene individuato per un semplice motivo comunque dare alle persone un incastro temporale col quale poter giocare ma molto spesso le tre ore se sono fatte a bassa intensità o con basso profilo di conseguenza saranno tre ore che potrebbero equivalere ad un allenamento intensivo anche di un quarto d'ora al giorno. Nel senso che poi ognuno di voi ha le sue richieste e le sue reali necessità e su quelle deve basare il lavoro che andrà a fare. Allora chiudo questo video perché poi per l'appunto ne vedete un altro molto più dettagliato con tutta la mia storia e i miei dati attuali con la bilancia intenzionometrica e domestica parliamo a uso professionale ma comunque che si può anche usare per casa perché non è una via proprio da nutrizionista però è segmentale ed è molto molto chiara con i dati che propone ma poi lo vedremo anche perché chi mi conosce già ha visto diversi video con le bilanci magari andatevelo a vedere c'è nessuno è segmentale che è la tannità la tannità ripeto t a n i t a e comunque ci sono tanti video sul canale quindi il discorso è avete più di 30 35 anni allenatevi in maniera costante allenatevi in maniera frequente e soprattutto allenatevi in maniera personalizzata cioè non limitate il vostro percorso di allenamento in palestra ha fatto questo ho fatto quello oppure seguo la classe perché magari nella classe c'è qualcuno che fa di più che qualcun altro che sicuramente fa di meno però nessun tipo di istruttore nessun istruttore può offrire a 30 40 persone l'allenamento mirato perciò il consiglio che ti do inizia il tuo percorso personalizzato può iniziarlo con me con qualsiasi professionista in palestra in zona tua però è fondamentale avere un piano che sia tuo personalizzato perché se è personalizzato diventa poi personalizzabile e diventa misurabile quindi quantificando l'attività i pesi che si usano quante volte di alleni gli obiettivi che si raggiungono ecco in quel modo tu riuscirai ad avere realmente successo e ovviamente offrire al tuo corpo i benefici che merita detto questo ci vediamo al prossimo video dove parlerò per l'appunto dell'intervenzione media mia personale e di cosa sto facendo per rimettermi estremamente in carreggiata e vi aspetto in un altro io molto delicato perché vado a parlare delle curvi già ho espresso alcune volte il mio pensiero ecco ne farò un altro breve di video per dirvi che non fatevi intortare dai luoghi comuni e dal marketing perché essere pur di sei in eccesso è un problema perciò ci vediamo al prossimo video mi raccomando lascia un bel like e iscriviti a wkt un bel like e iscriviti a noi